Nel film io interpreto Gina, la mamma di Valerio e la moglie di Alfonso, e Gina è una donna che ha dedicato, che sta dedicando tanto la propria famiglia. Barbara è un'attrice straordinaria, ha portato immediatamente un dolore, però nello stesso tempo Barbara aveva la durezza, la tenacia della soldatessa, cioè di mia madre. Una donna che è stata accanto a quell'uomo e ha tenuto tutto lei. Si ritrova a dover affrontare la paura che tutto quello che aveva possa finire, quindi è una donna molto forte. Lei è una madre che c'è, che si prende tutto, si prende le cose belle, le cose brutte, ma c'è. E questo nella sceneggiatura è la cosa che a me mi ha emozionato di più. Io ho avuto davanti mia madre, Barbara era veramente perfetta. Insomma ero già convinto di fare il film della prima pagina.